gentili colleghe e gentili colleghi buonasera voglio farvi questo breve video ritorniamo a questa modalità purtroppo perché l'emergenza covid ci costringe ancora una volta non poterci vedere da vicino e creare quelle relazioni personali che tanto ci tenevamo comunque devo essere veloce breve perché i video purtroppo diventano pesanti non si riescono neanche ad inoltare bene sui sui mezzi di comunicazione sui social volevo dirvi due cose importanti riguardo alla funzionalità del collegio che in questo periodo riceviamo solamente la segreteria solamente per appuntamento e quindi le cose si possono risolvere tranquillamente tramite mail tramite telefono e tutto quanto nel caso in cui c'è bisogno effettivamente indispensabilmente della della presenza fisica riceviamo il martedì e il venerdì in mattinata dalle 10 e 30 in poi ci sono io o qualche consigliere per darvi tutte le la mano possibile per gli altri giorni è preferibile comunque sempre solamente l'appuntamento ma se è possibile esclusivamente comunicare con i mezzi ormai diventati comuni cioè il telefono e la mail o la pec ripeto questo è importantissimo non ci fermiamo e la segreteria comunque è funzionante è aperta sempre per qualsiasi tipo di esigenza detto questo non ci fermiamo lo stesso per quanto riguarda la formazione per gli eventi non solo sisma bonus non solo super bonus 110 ma stiamo all'estendo anche altri altri webinar in piattaforma ma soprattutto volevo dirvi che la nostra piattaforma e learning è sempre molto molto attiva ci sono nuovi corsi nuovi corsi importanti dove si possono seguire tutta una serie di direzioni che ci danno la possibilità non solo di raggiungere credito ma ci formarci in maniera sempre più più performante e questo devo dire è molto importante perché da tante le tante parti d'italia si iscrivono colleghi e anche non colleghi iscritti anche altre categorie che ci veramente ci soddisfa molto questa cosa perché è molto molto importante in questi giorni probabilmente chi ancora non ha impagato la quota 2020 vi arriverà un sollecito perché è giusto che sia così ci incalza il consiglio nazionale ci incalza si incalza del revisore dei conti su queste cose non possiamo purtroppo farne a meno quindi entro il 2020 bisogna per forza pagare la rata del 2020 lavoro di iscrizione ripeto per tutto il resto sono sempre raggiungibile con il telefono con la mail con tutto cerchiamo di lavorare in in sicurezza soprattutto e stare cercando di stare attenti a tutta una serie di cose so che sono momenti particolari ma noi per quello che possiamo ci siamo ci saremo sempre buona serata a tutti e buon lavoro grazie a tutti